la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale vediamo il titolo, si parla ancora di terrorismo e vediamo come si sta invece preparando l'Italia ad affrontare il problema vediamo intanto la notizia di apertura terrorismo indagati gli imam espulso un pakistano era il capitano della nazionale di cricket italiana inchiesta sul reclutamento degli giadisti delle moschee e arrestato un siriano massima allerta a Roma andiamo avanti di fondo l'analisi il nodo fatale tra oriente e occidente poi l'attacco USA, Libia, il califo resiste ai raid si dell'Italia all'uso delle basi il ministro Pinotti liberare sirte fondamentale per la sicurezza andiamo avanti le interviste del mattino ho studiato napoletano per cantare al San Carlo Kufman parla della gala del mattino il tenorissimo, il segreto della mia voce è cambiare spesso il repertorio e poi il disco dolce vita molti classici partenopei, pavarotti e anche zucchero andiamo a centro pagina la cronaca Napoli agguato in centro due morti al summit Camorra ucciso un boss del Cavone e il suo vice spari in pieno giorno tra i veicoli un ferito portato in ospedale dopo aver dirottato l'ambulanza e poi in retroscena la faida dei cazzotti che ha scatenato la guerra della droga Nelle foto notizie a centro pagina si parla di sport in particolare oggi si parla anche delle Olimpiadi di Rio domani primo giorno vediamo come si prepara l'Italia ma soprattutto come si prepara la Campania infatti si parla in questo caso del pugilato Valentino il Tyson del Rione Traiano troverete l'intervista proprio al Valentino Manfredonia il pugile punta all'oro per Rio 2016 e poi invece per lo sport il mercato il calciomercato del Napoli Zelischi è fatta intanto Icardi tratta con l'Inter e poi si parla di una suggestione della suggestione Cavani andiamo di taglio basso uccide la compagna conosciuta sul web Caserta si consegna dopo 12 pugnalate morta la donna bruciata dall'ex il dibattito sud se 16 patti non fanno un miracolo questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo ora nelle pagine di primo piano e parliamo proprio delle minacce di terrorismo a Roma Roma blindata proprio per questo motivo infatti vediamo delle foto dei militari al Colosseo vediamo il titolo minaccia Isis Roma blindata Genova indagati tre imam arrestato giovane siriano per il PM era pronto ad arruolarsi la capitale italiana e Gerusalemme minacciate da un gruppo egiziano vicino al Califo le misure più contro il Colosseo dal Colosseo a San Pietro fino ai luoghi della Movida i centri commerciali e poi l'inchiesta nel mirino un presunto combattente 23 anni vive a Varese ma voleva tornare in patria ancora i rapporti i capi religiosi sotto inchiesta avrebbero aiutato il giovane in contrasto con gli islamici della sua città lasciamo questa pagina andiamo avanti ci spostiamo sul mattino di Salerno vediamo quali sono i principali argomenti che interessano Salerno e la provincia il titolo di apertura la sanità niente tregua per gli assenteisti a Ruggi la Corte dei Conti indaga su altri 204 dipendenti rischio stangata seconda tranche dell'inchiesta la procura invia gli atti emergenze ferie e stop alle sospensioni del servizio e poi la storia timbrava il beige per i colleghi mi minacciano andiamo avanti continuiamo sempre su questa pagina ci spostiamo di fondo caos commissioni lira di De Luca maggioranza divisa summit al comune ancora nessuna intesa sulle presidenze sempre più caos nella maggioranza al comune di Salerno capigruppo allo sbando per la scelta dei presidenti di commissione sotto accusa la gestione politica della squadra di Enzo Napoli lo tsunami c'è stato ma nessuno se ne è accorto quasi silenzioso ma devastante il casus belli delle presidenze delle nuove commissioni consigliari continua a mietere vittime a Salerno e poi le nomine partecipate vertici confermati mini sforviciata agli stipendi andiamo a centro pagina fulminato da una scarica operaio muore a 25 anni tragedie a Capaccio altri tre finiscono in ospedale installavano un palo della luce del giardino di un'abitazione la giovane vittima era di Eboli e poi il caso parcheggio ai tech ma con lobolo per gli abusivi nella fotonotizia il calcio con la salernitana salernitana rallentatore calendario lavellino a Natale e poi la decisione gioia paganese il tar la riporta in Lega Pro di taglio basso il libro regata storica il trionfo di Amalfi in 135 istantanee questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo avanti parliamo proprio dell'inchiesta della nuova inchiesta sugli assenteisti al Ruggi d'Aragona con il secondo filone di questa inchiesta infatti gli atti sono arrivati alla procura lo abbiamo già visto anche dal titolo di apertura della prima pagina del mattino di Salerno andiamo ora ad approfondire l'indagine della Corte dei Conti su 204 assenteisti scandalo Ruggi niente tregua la procura invia gli atti della seconda tranche rischio stangata just in time atto secondo la procura di Salerno ha inviato tutti gli atti relativi alla seconda tranche dell'inchiesta sugli assenteisti dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona alla procura generale presso la Corte dei Conti per le valutazioni del caso 204 le persone indagate saranno i magistrati contabili a dover definire quelle che sono le ipotesi di reato a carico degli indagati e soprattutto l'ammontare del danno erariale l'obiettivo i magistrati contabili dovranno definire il danno erariale causato continuiamo Timbrava per i colleghi ora mi minacciano il dipendente sospeso doveva rientrare in servizio ma i PM dicono no e lasciamo anche questa pagina andiamo ora sulle pagine sportive e vediamo che il mattino parte con le notizie relative a Rio 2016 oggi sul quotidiano troverete tutte le notizie che interessano il pugilato la campania presente a queste olimpiadi di Rio vediamo infatti il titolo campania la regione della box pronto l'assalto alle medaglie oltre a Manfredonia a Rio arrivano altri quattro campani Clemente Russo Vincenzo Mangiacapre Irma Tessa e Carmine Tommasone il presidente del comitato regionale della FPI il nostro è serbatoio straordinario e poi il boom a Rio oltre a Manfredonia presenti la testa Mangiacapre e Tommasone e Russo quindi l'abbiamo già visto di taglio basso invece si parla del calcio Peiè mette pressione sul Brasile di Neymar oggi debutto con il Sudafrica Orei che se le sa l'oro ci manca lasciamo questa pagina di Rio per Rio 2016 e andiamo invece ora a parlare del calcio parliamo della Salernitana come si prepara questa seconda stagione di Serie B ma soprattutto come si prepara la prossima gara di Coppa Italia vediamo il titolo ultimo test prova generale di Coppa Italia Salernitana ancora al ralenti gambe pesanti organico ridotto manca la spinta sulle fasce Bovo assente verso la cessione scoppia la grana Vacinovic continuiamo di taglio basso Sannino siamo in fase di costruzione c'è molto da fare il tecnico vorrebbe rinforzi almeno chi ho a disposizione ma la società sa come agire poi mi piace la partenza difficile gli avversari piuttosto ci daranno adrenalina lasciamo le pagine del mattino andiamo ora su Metropolis Metropolis apre con l'incidente mortale verificato sia a Capaccio per della vita l'abbiamo visto un giovane di Eboli lo abbiamo visto sulle pagine del mattino di Salerno folgorato mentre stava installando un palo della luce in un'abitazione privata vediamo il titolo folgorato mentre lavora muore il 28enne Walter De Nigris quattro feriti di cui uno è in gravi condizioni scarica elettrica colpisce un gruppo di operai a Capaccio questo è l'argomento principale per Metropolis di taglio alto anche su Metropolis troviamo la notizia del secondo filone di inchiesta sugli assenteisti del Ruggi d'Aragona vediamo Ruggi inchiesta bis su 200 assenteisti è un dipendente sospeso dal servizio fa ricorso al riesame per essere reintegrato scandalo beige gli atti della magistratura ordinaria sono stati acquisiti dalla Corte dei Conti e restiamo a Salerno lucida artista fino a marzo appalto affidato alla Iren la manifestazione milionaria parte a novembre si parte con l'undicesima edizione di luci d'artista affidato l'appalto all'unica società che ha partecipato al bando le opere artistiche luminose saranno noleggiate ancora dall'azienda torinese Iren servizi e innovazioni novità sulla durata luci accese due mesi in più rispetto agli anni passati da novembre a inizio marzo andiamo avanti centro pagina picchiati e rapinati in casa terrore a Pizzolano coppia di anziani vittima di quattro banditi e poi eboli lite per l'eredità botte nel cimitero sorelle violente due sorelle arrivano alle mani per un'eredità contesa a Cava dei Tireni infermiere pestato nell'ufficio dell'Asri infermiere aggredito e colpito con dei pugni da una coppia andiamo di spalla lo sport Serie B Salernitana esordio di fuoco alla Spezia derby con l'Avellino a Natale calendario in regalo di Ramato ieri sera il nuovo calendario della Serie B esordio in trasferta per il Granata di Sannino prima gara interna contro il Verona derby con l'Avellino è previsto per Natale in Lega Pro il Tar riapre i giochi la Paganese sorride esclusione ricorso accolto e poi in Serie D e la Cavese spera oggi dentro o fuori questa è la prima pagina di Metropolis andiamo avanti andiamo sulla riforma della giustizia processo penale niente più regali ai corrotti prescrizione solo dopo 18 anni arriva in Senato il nuovo decreto dopo l'estate il confronto definitivo in discussione le intercettazioni e le mille assunzioni nelle cancellerie da ieri mattina il disegno di legge di riforma del processo penale è stato incardinato al Senato l'intento dovrebbe essere quello di rendere più efficiente la giustizia in Italia nel pacchetto delle modifiche al codice di procedura penale all'ordinamento pienitenziario c'è anche la revisione dell'istituto della prescrizione una riorganizzazione della disciplina delle intercettazioni e non ultima cosa le mille assunzioni previste per il funzionamento delle cancellerie che si trovano nell'impossibilità di svolgere un lavoro che dovrebbe essere sempre costruttivo e proficuo nell'interesse del cittadino il ministro Orlando la rivoluzione promessa arriverà zittiti gli scettici queste le sue parole e poi portici a un caso i giudici di pace tornano a Salerno a Malfi e Gragnano lasciamo questa pagina andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla provincia di Salerno dove troviamo anche una notizia di Sapri rifiuti nell'area scatta il sequestro questo è il titolo i carabinieri della stazione di Sapri guidati dal maresciallo Pietro Marino nell'ambito di una di un'ampia attività di controllo agli impianti e strutture ad alto impatto ambientale hanno effettuato su delega della procura della Repubblica di Lago Negro un ispezione presso un terreno in località Brizzi risultato di proprietà del demanio l'area era stata illecitamente trasformata in un vero e proprio deposito di rifiuti speciali e su questa notizia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della rassegna stampa che apriamo con le pagine del quotidiano la città la città titolo di apertura la tragedia a Capaccio dove un operaio un giovane operaio resta folgorato da una carica elettrica vediamo il titolo operaio di 27 anni muore folgorato lavori in una villetta feriti il proprietario e altri tre lavoratori uno è di Salerno questo è il titolo di apertura andiamo avanti nella fotonotizia un salernitano vince 106 mila euro al 10 e l'8 la Dea Bendata Bacia Salerno sono stati vinti 106 mila euro tramite il noto gioco del 10 e l'8 una schedina di 50 euro e valsa il fortunato giocatore salernitano un bel gruzzoletto recentemente nella stessa ricevitoria erano stati vinti altri 30 mila euro e poi il caso sospetta meningite annocera riguarda un giovane reduce da Cracovia secondo caso dopo Roma ci spostiamo di fondo commissioni la maggioranza litiga ancora a Salerno il sindaco Vincenzo Napoli scende in campo e prova a risolvere personalmente il rebus commissioni consigliari dopo che il suo staff ha fallito e ancora la metro come navetta per il mare in estate cambiano i passeggeri cambiano gli utilizzatori della metro diventata vera e propria navetta per le spiagge cittadine andiamo di taglio alto lo sport è stato diramato il calendario per la stagione 2016-2017 in serie B Salernitana debutto alla Spezia ha varato il calendario della B prima alla Rechi con il Verona e ieri 1 a 1 con la Samb e poi per le Olimpiadi cerimonia di apertura made in Italy domani il Via e ancora sempre per il calcio il TAR raccoglie il ricorso Paganese in Lega Pro andiamo di taglio basso a Cava dei Tirreni Avanz sgradite finisce a Pugna all'Asl si picchiano un impiegato il marito della donna invece a Fisciano coppia Danzani rapinata in casa questa è la prima pagina del quotidiano la città andiamo ad approfondire alcuni temi all'interno del quotidiano e vediamo che si parla del Canone Rai vediamo i nodi Canone Rai in bolletta istruzioni per il rimborso il TAR del Lazio ha respinto le richieste di sospensione del decreto presentate da altro consumo risarcimento solo per le categorie esenti fornitori di energia elettrica non dovranno restituire a tutti gli italiani 70 euro della prima rata del Canone Rai in bolletta ma solo a coloro che hanno ricevuto la debito ingiustamente il TAR del Lazio ha infatti respinto con ordinanza il reclamo dell'organizzazione di consumatori e altro consumo che aveva chiesto l'annullamento del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico sul Canone in bolletta continuiamo centropagina via libera ai nuovi direttori dei TG oggi il voto del CDA critiche dalla minoranza del PD Movimento 5 Stelle e Forza Italia lasciamo questa pagina restiamo sul quotidiano la città ma andiamo a vedere quali sono le principali notizie che interessano la parte sud della provincia di Salerno in particolare Cilento e Vallo di Diano il titolo di apertura spiaggia contesa tra due stabilimenti Maxirissa e nove feriti botte da orbi a palinuro tra gestori e dipendenti dei Lidi medicati in ospedale e segnalati alla procura dai carabinieri per la viabilità invece Cilentana sul viadotto i controlli dei tecnici SOS per la provinciale andiamo a centropagina a Polla Giuseppe morto per l'incidente la tragedia di Atena Lucana escluso il malore prima dell'impatto con il rimorchio è stata effettuata nell'obitorio dell'ospedale Curto di Polla l'autopsia su Giuseppe annunziata l'operaio 61enne di Auletta deceduto sabato sera in un incidente stradale avvenuto sulla statale 19 nel tratto che attraversa il comune di Atena Lucana stando alle indiscrezioni trapelate al termine dell'esame autoptico sembra escluso che a causare il decesso dell'uomo sia stato un malore doveva aver colpito annunziata qualche istante prima dello scontro con un'altra auto andiamo avanti di taglio basso una notizia del Golfo di Policastro da Sapri discarica vicino al mare scatta il sequestro dell'area ennesima discarica abusiva nel Golfo di Policastro l'hanno scoperta e sequestrate i carabinieri in località Brizzi queste sono alcune delle notizie che troverete sul quotidiano la città andiamo avanti andiamo ora a sfogliare invece le cronache partiamo dalla prima pagina il compare della Camorra così nelle dichiarazioni il pentito Loreto Junior parla del rapporto con l'imprenditore Nello Longobardi quando ci servivano soldi si ci faceva portare una fattura e ci pagava l'IVA riscontri alla BCC di Scafati nel mirino dell'antimafia l'accordo con il comune per non pagare i rifiuti fino al 2017 l'assessore accontenzioso il nipote Chirico andiamo avanti lo spezia all'esordio e poi alla Reiki c'è subito il Verona la vigilia di Natale il derby con l'Avellino 1 a 1 nell'ultima vichevole con la Samb questo per quanto riguarda i calendari di sedie B quindi parliamo del calcio di Ramati nella giornata di ieri e che troverete all'interno del quotidiano le cronache continuiamo a Capaccio muore folgorato il 28enne Battipagliese Walter De Nigris tragedia a Capaccio feliti il 46enne Martino Marino 38enne Felice Andreoli figlio del proprietario della ditta elettrica Andreoli Vincenzo Alfano proprietario della villetta tutti e tre di Capaccio Pessum e Carmine Sessa un operaio salernitano Paganese il miracolo dell'avvocato Gallo così abbiamo vinto al Tar la squadra è stata riammessa in Lega Pro a Pompei abusi edilizi del sindaco e della famiglia mentre vi coequenze la minoranza attacca no assente isti è polemica le notizie di spalla Salerno fonderie l'aria è di nuovo irrespirabile ancora Salerno del Baio il sindaco di Vietri rafforzano il costone mentre a Ponte Cagnano incendio alla pizzeria Giardino degli Dei questa è la prima pagina con i principali temi per il quotidiano Le Cronache ora andiamo ad approfondire all'interno le notizie all'interno si parla del Cilento l'evento il Cilento deve uscire dal suo isolamento parla Vincenzo Boccia presidente di Confindustria e rilancia il suo impegno per la provincia di Salerno sa apri ieri il premio Cicas Turismo 2016 riconoscimento anche ad Alfonso Andrea soddisfatto il sindaco del medico il Cilento deve puntare sulle sue risorse ambientali e culturali per uscire dall'isolamento solo così potremo garantire un futuro ai giovani imprenditori sono queste le parole di Vincenzo Boccia presidente di Confindustria che rilancia il suo impegno per la provincia di Salerno lo fa da sapri cuore del golfo di Policastro dove dalle mani del sindaco Giuseppe del Medico ha ritirato il premio Cicas Turismo 2016 andiamo avanti nelle pagine interne per il territorio del Cilento e del Vallo di Diano in apertura si va ad Agropoli si parla della sanità ospedale chiuso assistenza assicurata dall'istituto polidiagnostico Santa Chiare disagi per la chiusura del nostro comio locale attutiti dai privati e poi una notizia di Sapri sequestrata in località Brizio in area privata trasformata in discarica abusiva un'operazione dei carabinieri della locale stazione su disposizione della procura di Lago Negro Lasciamo queste pagine continuiamo sempre sulle cronache parliamo invece di sport con il calcio e con la sedia B che abbiamo detto sono stati diramati i calendari con gli appuntamenti anche per la Salernitana la prima alla Reiki sarà contro il Verone il Verone apre la Reiki un Natale da lupi inizio e finale di stagione incredibile esordio alla Spezia poi arriva l'Ellas vigilia di Natale al Partenio di Avellino ultima gara nella Tana del Perugia avvio in salita per gli uomini di Sannino che nelle prime sei giornate affronteranno tutte con pagini accreditate al salto di categoria con il Benevento il primo derby e andiamo avanti presente per il Granata a mezza Roma il patron Scaligio Rossetti spero in una riconciliazione lo Tito e quel coro scandito dai tifosi da cinque anni portaci a Verona e poi le date si giocherà anche a Pasquette e all'antivigilia di Capodanno oggi regolamento e date di playoff e play out e con queste notizie di sport termina la nostra segna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito